bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi un sacco di novità per quello che riguarda il nostro fortnite nel video di oggi parleremo dell'arrivo finalmente del nuovo starter pack forse già disponibile o forse in arrivo tra pochissimo ma vedremo anche finalmente tutte le novità riguardanti i competitive estivo per ovviamente le qualifiche invernali e tanto tanto altro prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali anche al secondo canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente al primo argomento di oggi che non poteva che essere tutto il discorso competitive di fortnite se andate direttamente nella pagina ufficiale potrete leggere una spatafialla di roba interessantissima la riassumiamo in quattro articoli il primo le trasmissioni ufficiali di fortnite con la ccfn su invito dall'ultima stagione abbiamo voluto riproporre le trasmissioni ufficiali ma attraverso una squadra di produzione in remoto e con distanziamento sociale completo il vostro riscontro è stato positivo perciò continueremo a trasmettere i tornei della ccfn il tutto valorizzando i talenti nuovi e in ascesa di quest'annata quindi continueranno tutto il discorso delle ccfn ciascuna stagione di trasmissione includerà anche nuovi drop di twitch quindi potete ottenere dei premi una volta è successo anche al mio canale lei su twitch avete ottenuto gli spray quindi speriamo si riproponga per sostenere almeno le trasmissioni della community drop saranno disponibili anche per tutti i canali twitch che facciano lo streaming della ccfn ma andiamo avanti perché invece è importante il discorso degli oggetti con il lancio della season 3 vorremmo ricordare come gestiremo i lanci della stagione e i nuovi oggetti di fortnite all'arrivo della season le place base e l'arena conterranno gli stessi oggetti via via che la season si arricchisce di nuovi oggetti questi avranno un periodo di valutazione di due settimane durante le quali saranno esclusi dall'arena e dai tornei quindi ad esempio il firefly jar quindi la molotov non difficilmente la troveremo nei tornei al termine del periodo di valutazione gli oggetti che danno un valore riconosciuto al gioco competitivo verranno aggiunti all'arena e ai tornei in rare occasioni alcuni oggetti potrebbero subire modifiche nel corso della season e ancora più importante ragazzi ecco quale date dove potete provare le qualifiche ai vari tornei la coppa cash terzetti si farà ogni mercoledì dal 15 luglio al 12 agosto della della sezione contendenti mentre la terzetti solo campioni ogni mercoledì sempre dal 15 luglio al 12 agosto la coppa cash piattaforma ogni giovedì dal 16 luglio al 13 agosto e la notte dell'hype ogni domenica dal 19 luglio al 16 agosto la cosa importante sono le qualifiche alla ccfn saranno il primo agosto la fase 2 il 2 agosto no scusatemi la ccfn 2 il 2 agosto la ccfn 3 l'8 agosto la ccfn 4 il 9 agosto le finali invece saranno dal 14 al 16 agosto e per quanto riguarda invece un altro grande torneo di fortnite il dream quello che si svolge in svezia se non ricordo male nel mega palazzetto appunto adibito al competitive e a tutto quello che riguarda il mondo dei videogame arriveranno anche prestissimo le nuove date per le qualifiche però ci tendono a ricordare che la la nostra epi games cioè epi games prenderà una pausa dal 3 al 12 luglio insomma come fanno ogni giorno questo questo giro non sono 14 giorni ma sono solamente 9 il che vorrebbe dire che non ci saranno tornei fino al 12 luglio comunque staremo a vedere ovviamente tutte le informazioni e le troverete nella sezione competitive della lobby e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché appunto dovrebbe essere disponibili per tutti da adesso comunque fra pochissimo lo starter pack intanto abbiamo una visita dello starter pack direttamente in game lo yellow jacket 4 euro e 99 ovviamente il prezzo come ogni starter come vedete molto carina la ragazza con tanto di backpack e piccone integrato sappiamo che in questo starter pack arriverà anche un deltaplano ma non sarà incluso nel pacchetto dovrà essere shoppato indipendentemente nello shop ovviamente con lo starter pack arriva anche il blocco da 600 v bucks per questo io consiglio sempre se ne avete la possibilità di prenderlo perché almeno ci sono dentro i v bucks e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché vi avevo lasciato ieri e l'altro ieri con questa immagine o meglio due giorni fa con l'immagine della flare gun e tutte le sue statistiche ieri abbiamo ascoltato invece nel video i suoni della flare gun e oggi arriva finalmente la prima immagine ufficiale o meglio non ufficiale ma comunque in game della flare gun ed eccola qua ragazzi molto simile insomma a quella che abbiamo visto nell'icona precedente super flare si chiama con un colore arancione sulla canna davanti la possiamo vedere anche da questa angolazione come vedete all'interno è presente il bussolotto che vi ricordo fa 60 di danno ne stanno ben 6 nel caricatore sono molto curioso di vedere come sarà il l'animazione del caricamento dell'arma perché non è proprio grandissima come pistola e voglio vedere dove cavolo li mettono 6 bussolotti quindi ragazzi flare gun che si appresta ad arrivare in game andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché voglio ricordarvi che tra due giorni sarà disponibile la nuova challenge per personalizzare le colorazioni del brello l'ombrello quello che mano a mano si progredisce con il pass battaglia si può personalizzare dalla punta alla tela all'asta alla base e arriveranno appunto le colorazioni se non ricordo male è una challenge davvero semplicissima dove dovremmo semplicemente sopravvivere a 500 avversari questo è proprio un ricordo comunque lo troverete nella sezione e se vi ricordate negli ultimi due giorni abbiamo parlato anche della skin del re dei funghi ieri vi ho fatto vedere la versione normale poi avete visto anche la versione glow poi abbiamo visto anche tutte le descrizioni e finalmente arriva anche un piccolo spezzone del piccone in game eccolo qua ragazzi devo dire che è deludente non mi piace assolutamente questo piccone non ha a che vedere con quello che pensavo il nome è mad cap come vi voglio ricordare e non è altro che appunto una lama colorata con la testa di un fungo sinceramente appunto mi aspettavo di più non mi fa impazzire ma andiamo avanti perché voglio parlarvi di un altro argomento molto interessante che riguarda la mappa di fortnite per tutti quelli che se lo fossero persi vi ricordo che abbiamo una season divisa in otto spezzoni ok quindi più si va avanti con la season più l'acqua scende e più vengono fuori diverse location sparse nella mappa 8 location sommersi che conosciamo una ancora sconosciuta che non sappiamo dove verrà inserita quindi le ruins le rovine quella che dovrebbe essere dedicata ad aquaman ma guardate questa dovrebbe essere la mappa al termine della season comunque nel mese finale nelle due settimane finali e come vedete nella parte alta di sinistra c'è una nuova location enorme potrebbe proprio essere questa la location dedicata alle rovine perché come vedete va a riprendere vi faccio rivedere ancora l'immagine di prima per farvi capire dove siamo un'uscita totale di sabbie praticamente torna quasi come era nella stagione 2 di questo capitolo 2 davvero molto bella e ragazzi vista così mi piace il fatto che torni con tanta terra dove poterci correre sopra mi dispiace che purtroppo gli squali non so bene che fine faranno ma questa location è davvero molto interessante e da tenere sotto controllo prima di salutarvi comunque un'ultima informazione un po più tecnica per quelli che vogliono seguire anche quello che succede proprio al dietro 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 è tutto quello che si vede su fortnite ho capito perché hanno terminato anche la patch 13.30 perché appunto loro saranno in vacanza dal 9 al 12 luglio quindi è molto probabile che noi vedremo non credo questa settimana ma settimana prossima la 13.10 riusciremo anche a vedere la 13.20 e si sono già parati per la 13.30 quindi ragazzi sono davvero molto avanti insomma io per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate un bel like iscrivetevi nei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao